Ancora una volta la storia di Lancia si incrocia con la storia del nostro paese. Infatti oggi è un giorno davvero molto speciale, celebriamo il compleanno di Lancia, ma anche i 60 anni della Flaminia presidenziale. In fondo questo è un anno tutto molto speciale, Lancia è entrata nel gruppo dei 14 marchi di Stellantis, certo guarda al passato con grande orgoglio, ma dopo qualche mese di lavoro e l'approvazione del nostro piano a 10 anni guarda anche al futuro con fiducia e molto ottimismo. La vettura presidenziale è una serie speciale della Lancia Flaminia del 1957, è una versione cabrio chiamata 335 appunto per indicare la lunghezza del suo passo in centimetri. Ne esistono solo quattro esemplari a cui sono stati dati i nomi dei puro sangue delle scuderie del Quirinale, Belfiore, Belmonte, Belvedere e Belcito. È una vettura davvero meravigliosa, il colore è un blu notte, stelleria in pelle nera, interfono per comunicare con l'autista, cinque sedute posteriori con un ampio divano e due strapuntini. È stata l'auto delle grandi occasioni, delle visite dei grandi capi di stato e tra questi John Fingeral Kennedy, Charles de Gaulle e la regina Elisabetta.